Ben trovati, nostro ospite l'onorevole Gianni Cuperlo, leader di Sinistra Demme, è uno dei candidati, anzi, il candidato anti-Renziano nelle ultime primarie. Il problema oggi della Sinistra si chiama Renzi o un'assenza di cultura di Sinistra complessivamente? Intanto buongiorno, grazie dell'invito, dell'occasione. Il problema della Sinistra oggi si chiama crisi, nel senso che noi siamo noi, l'Italia, l'Europa, siamo ormai al settimo anno della crisi più drammatica che ha investito l'Occidente nel corso degli ultimi decenni. Vuol dire che nessuna generazione vivente ha mai conosciuto una crisi di queste dimensioni, di questa profondità, di questa durata. E le risposte che la politica a livello europeo ha dato sino ad oggi a questa crisi non sono state le risposte che hanno aiutato a vedere la fine del tunnel. Non è stato così in altri paesi, in altri continenti. Gli indicatori economici degli Stati Uniti di Obama sono abbastanza impressionanti. Nell'ultimo trimestre dell'anno che si è appena chiuso hanno fatto il 5% di crescita. Assumono 250.000-300.000 persone ogni mese. Anche l'America ha subito l'impatto della crisi, hanno perso 9 milioni di posti di lavoro dal 2007, ma li hanno totalmente riassorbiti, perché hanno dato una risposta diversa sul piano qualitativo e del contenuto, in termini di politica monetaria, di investimenti pubblici, di politica industriale. Il problema della sinistra in Europa è affrontare esattamente questi snodi e farlo adesso in un passaggio cruciale, non soltanto per la vicenda e la cronaca terribile di questi giorni, forse diremo qualcosa, ma in un passaggio cruciale anche dell'assetto politico del nostro continente. Il 2015 riserverà due appuntamenti elettorali significativi. Uno a ridosso, tra pochi giorni, il 25 gennaio, si vota in Grecia. La lista di Tsipras, il movimento che si chiama Sirisa, è stato favorito nei sondaggi, non vuole uscire dall'euro, però vuole ricontrattare le regole della moneta unica. E poi nell'autunno dello stesso anno, di quest'anno, voterà la Spagna, dove c'è un nuovo movimento politico che si chiama Podemos, sorto, nato pochi mesi fa e che già oggi i sondaggi accreditano come la forza potenzialmente di maggioranza relativa. Molto sta cambiando e la sinistra in Europa e in Italia deve interrogarsi su questi cambiamenti. Io mi auguro che il governo guidato da Renzi e che la segreteria di Renzi, del PD, sappiano cogliere queste opportunità e non viverle come dei rischi. Senta, Tsipras in Italia si chiama Vendola? No, sono due cose diverse. Innanzitutto sono due cose diverse dal punto di vista quantitativo. Oggi il movimento di Vendola, che è un caro amico, SEL, è accreditato di un certo numero di punti percentuali, ma non credo superi il 5%, anzi, credo stia sotto quella soglia. Come ho appena accennato, il movimento di Alexis Tsipras è considerato ragionevolmente candidato a vincere le elezioni politiche a fine mese. E a quel punto è possibile, se non probabile, che in Grecia nasca un governo di coalizione, perché i numeri comunque non saranno tali da consentire a questo giovane leader greco di fare un...